Esercitavano il mestiere più antico del mondo in due appartamenti, uno in pieno centro storico di Fano e l'altro nella zona della Sassonia, via Nolfi e via Dante Alighieri. Basta operazione contro lo sfruttamento della prostituzione da parte degli uomini del commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti. Arrestate due persone ed altre due denunciate in stato di libertà per il reato di favoreggiamento della prostituzione. Due donne di nazionalità cinese e due extracomunitarie di 44 e 46 anni clandestine espulse dal territorio nazionale ed altre due rumene di 32 e 33 anni scoperte in flagranza di reato dagli agenti infiltrati come clienti allontanate dal comune di Fano. Per il proprietario dell'appartamento di via Dante Alighieri, un fanese di 48 anni, è scattata anche la denuncia per favoreggiamento della prostituzione e per aver fornito ospitalità a persone clandestine. Alla base di questa operazione ci sono stati, soprattutto per la centralissima via Nolfi, i controlli e l'identificazione di svariate persone ed il presidio del territorio che ha messo sulle tracce gli agenti di strani movimenti e andirivieni di uomini, soprattutto nella zona di Sassonia. Per via Dante Alighieri sostanziale anche l'apporto dei cittadini che hanno notato da tempo strani movimenti nell'appartamento nel condominio. Facoltoso il giro di clienti emersi dai controlli, numerosi uomini di ceto medio-alto provenienti per la maggior parte da Pesaro. Ma i controlli si sono estesi anche fuori le mura cittadine. Da tempo infatti la polizia monitorava un giro di prostituzione lungo la statale nei pressi di un distributore di benzina a Metaurilia. Lì un blitz delle volanti del commissariato ha portato all'identificazione e l'allontanamento dal territorio di Fano di tre rumene intente a prostituirsi ed è denunciato a piedi libero anche il fratello di una di esse per affavoreggiamento della prostituzione.